salve a tutti amici mi trovo a locarno all'aria camper di nuovo e oggi lo faccio spaghetti carbonara della micros guardate com'è l'immagine mette paura parmigiano pepe e questo penso che sia prosciutto cotto non lo so e prezzemolo prezzemolo nella carbonara è una ricetta originale dei spaghetti carbonara altro che spaghetti carbonara romani questa è the original c'è qualcosa di bello che posso vedere pasta con salsa alla panna prosciutto pancetta e formaggio pastorizzata e vabbè dai ci proviamo è si può si può scaldare anche nel microonde a 600 watt in padella 5 10 minuti noi usiamo la padella del camper è scaduto il 15 febbraio siamo al 19 oggi quindi è scaduta da quattro giorni e dai non dovrebbe far male insomma ci proviamo dai si non vedo l'ora ok allora lo spacchetto e lo metto nella padella ok l'olio credo che non serve vedete dov'è la cosa è qua sotto l'odore non è male ovviamente c'è gli ingredienti non sono acci per fortuna il prezzemolo non lo vedo e non lo sento e prosciutto panna insomma via non è che forse può sbagliare più di tanto sicuramente non ha niente a che fare con una carbonara ma credo che sia un piatto da scartare vabbè i pezzi di prosciutto si vedono il prezzemolo niente proprio niente 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 la panna si sente i spaghetti sono stati tagliati come vedete sono dei pezzi non sono proviamo questa è una classicissima rasta quattro formaggi si sente formaggio si sente un formaggio che penso non lo so sia che abbia a che fare con la panna e prezzemolo non si sente il sapore per niente per fortuna come carbonara ovviamente bocciata perché non c'entra niente c'è proprio niente niente ci vuole fantasia per chiamare la carbonara ma però se si chiamava spaghetti ai quattro formaggi la sufficienza la prendeva come carbonara ovviamente bocciata però come pasto così d'emergenza scaduto quindi bisogna mangiarlo non si butta niente va bene un 5 5 meno il prosciutto è veramente cattivo sa di poco e sembra come se fosse non lo so la buccia uno scarto del prosciutto il prosciutto non lo mangio come piatto di pasta non è male considerate che questo qui comunque un piatto che può costare 3 franchi così al massimo non ricordo l'ho presa la micros quindi ci sta va bene ora però mi sa che mi faccio un panino con la mortadella per pulirmi la bocca che è la meglio cosa e magari anche una birretta se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su consigliatemi quello che posso assaggiare ditemi cos'è che mi vorreste vedere mangiare qui di svizzero che sia un prodotto tipico che sia un qualcosa di confezionato scrivetemelo sotto nei commenti ringrazio per la visione buon fine settimana a presto e ciao voletevi bene ciao